Buongiorno a tutti, buon mercoledì, vi abbraccio con immenso amore e affetto. Oggi concludiamo la bella iniziativa di preghiera che ha coinvolto, devo dire, con mia commozione, tantissimi, tantissimi, tantissimi di voi, un'ora con Gesù. Alla sua presenza, un'ora di preghiera, un'ora di meditazione, la possibilità per molti anche di confessarsi. E allora concluderemo insieme oggi questo bel giorno di preghiera. Voglio consegnarvi come meditazione una frase di Gesù che dice nel Vangelo oggi a coloro che hanno creduto in Lui, a coloro che si sono fidati di Lui, a coloro che lo hanno seguito. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Noi siamo quelli che si fidano di Gesù, giusto? Noi siamo quelli che amano il Signore, giusto? Noi siamo quelli che vogliono fare la Sua volontà, vogliono vivere con Lui, per Lui. Ecco, Gesù oggi a me, a te, a te, a te, a tutti voi dice se rimanete nella mia parola, nei miei insegnamenti, in quello che vi dico, se vi sforzate di viverla, questa parola che vi do, siete davvero miei discepoli. E allora che aspettiamo di vivere la parola del Signore e di farci santi per essere chiamati discepoli del Signore? È un vanto essere chiamati discepoli del Signore, ma è anche una grande responsabilità, perché dobbiamo essere di esempio, dobbiamo essere testimoni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A voi che siete i miei amici, i miei fratelli, la mia grande famiglia, vi condivido un'emozione immensa per me. Intanto vi dico che ci ritroviamo alle 17.20 per pregare il Rosario. Qual è l'emozione immensa? Per la prima volta, la prima copia del mio nuovo libro, Tra le mani. È un'emozione immensa. Pensare a quanti sacrifici, a quante ore, durante la notte, durante il giorno, per scrivere queste pagine. Lo sguardo di Gesù, pagine di misericordia, tau editrice, con la prefazione del Cardinale Comastri. Ancora non è nelle librerie. Io lo presenterò in anteprima esclusiva il 7 aprile alle 18.30 nella libreria Mondadori Store di Sala Consilina. Però ho già visto che su un sito, www.lalibreria.delsanto.it, è già disponibile online. Chi lo volesse già acquistare online può farlo. Sono emozionato. Sono emozionato al pensiero di avere questo libro e sono emozionato al pensiero che tra pochi giorni, sabato, compie 16 anni di sacerdozio. Grazie a tutti per le preghiere che vorrete fare per me. Ci vediamo per il rosario alle 17.20.